Signori, finalmente uscite le sfide della settimana numero 10, quindi andiamo a completare la primissima sfida appunto di questi incarichi epici settimana 10 che ci chiederà di fare una nuotata a lago L'Aquido. La nuotata a lago L'Aquido ragazzi la potremmo fare teoricamente in due luoghi ma questo dovrebbe essere quello assicurato che vi conta. Difatti ragazzi esattamente in questa casupola qua al sud praticamente di lago L'Aquido c'è praticamente questo appartamento, potremmo definirlo, sì un hotel insomma con la piscina ragazzi semplicemente facciamo così e tranquillamente ragazzi completeremo la missione perché appunto dovremmo fare semplicemente una nuotata nel caso non ve la conti in questo caso nella piscinozza questa qui provate ad andare appunto qua nel classico punto di pesca di lago L'Aquido cioè alla sinistra appunto di lago L'Aquido dove ci sono le marche, dove ci sono un botto di carne da pesca, un botto di punti di pesca soprattutto semplicemente fate una bella nuotazzata qua signori. Quindi questa è la missione davvero semplicissima fatemi sapere come l'avete completata e niente un bacione grandissimo bella ragazzuoli ci vediamo tra qualche secondo, codice Lucius, bella signori ciao